Allora, vediamo oggi chi vince qua, scusi, vorrei comprare una, vorrei comprare il giornale, quello lì, quello Mitang, quell'altro, Repubblica, quello lì, Quotidiano, prima le ragazze, dimmi al casari non avete capito niente allora adesso controllo un attimo il sintetico dimmi al casari dove stai lì? per favore sto contando facete far morire qua? signora aspetta sto contando è lì figlio dai è lì guarda non questo sto contando 10 euro tutti i soldi qui a mezzo dai ti fanno 10 euro per favore che prendo la droga aspetta questo è il tuo premio basta quello azzurro di che si parlano qua? signora ho vinto sono molto 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 felice molto 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 il giornale per favore ciccio il giornale ragazzi per favore un tabacchino devo chiamare la polizia qui nooo due euro ascolta mi apri il giornale parliamo di salvi? scusa mi sa che basta anche nella droga ragazzi ragazzi di favore il mio tabacchino si sta calmo ok? calmo lo dici? il tabacchino è mio perché l'ho coperto ecco hai visto 10 euro appunto il tuo tabacchino vale meno sono anche infortunato calmi guardi me mi cammino a vento io piano si ma mi dia una mano no? no dai impari a camminare dai per favore allora ha vinto anche questa si bene anche questa ma beh anche questa questa no mister un vecchietto col allora abbiamo un bastone bene dai per i soldi diventa uno diventa uno per i soldi di per i soldi per i soldi per i soldi avanti per i soldi